Sono 304 i pazienti positivi al SARS-CoV-2 in provincia nelle 24 ore precedenti, secondo l'aggiornamento dell'aspe nissena del 28 giugno. Sarebbero tutti in isolamento domiciliare, per l'esattezza 89 di Caltanissetta, 67 di Gela, 29 di San Cataldo, 27 di Niscemi, 18 di Serra di Falco, 13 di Vallelunga Pratameno, 10 di Mussomeli, 9 di Butera, 7 di Sutera, 6 di Campofranco, 6 di Riesi, 5 di Delia, 5 di Milena, 4 di Sommatino, 4 di Villalba, 2 di Resuttano, 2 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Mazzarino. Un paziente di Riesi risulterebbe ricoverato in degenza ordinaria, così come 1 di Serra di Falco e 1 di Gela, 3 i pazienti di Messi, 1 di Caltanissetta, 1 di Niscemi e 1 di Butera. E più di 200 i guariti, e cioè 75 pazienti di Caltanissetta, 57 di Gela, 32 di San Cataldo, 21 di Niscemi, 9 di Serra di Falco, 7 di Campofranco, 5 di Mazzarino, 5 di Mussomeli, 5 di Riesi, 4 di Butera, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Acquaviva Platani, 2 di Milena, 2 di Montedoro, 2 di Resuttano, 2 di Vallelunga Pratameno, 1 di Delia, 1 di Sommatino e 1 di Sutera. In totale in Sicilia sono 6.396 nuovi positivi e in tutta Italia invece l'incremento rispetto al giorno precedente è di 83.555 casi.